Ciao a tutti e ben ritrovati, il protagonista della puntata di oggi è la concessionaria storica Opel S Auto nella sede storica di Rosta in Corso Moncinesio 75, io sono in compagnia di Michele che ci ricorda anche le altre sedi, ciao ben trovato. Ciao a tutti, sono Michele, le altre sedi sono il Service in Corso Torino 87 Bottigliera Alta e l'altra sede vendita in Corso Francia 175 Rivoli, Cascinevica. L'intera gamma Opel è a vostra disposizione, tutti i modelli della gamma sono qui pronti per essere testati su strada, in particolare iniziamo a parlare del SUV d'eccellenza, il nuovo Opel Mokka. La nuova Opel Mokka in pronta consegna poche unità ancora disponibili, motorizzazione 1700 turbodiesel, 1400 benzina o GPL, venite a trovarci, siamo lieti di farle provare su strada, disponibilità immediata. Anche degli altri modelli di casa Opel naturalmente? Assolutamente sì, abbiamo Opel Agila, Opel Corsa con GPL o motorizzazione turbodiesel, Opel Meriva benzina o GPL o turbodiesel, Opel Zafira o Opel Astra. Bene, oltre alla vendita vi ricordo che S-Auto ha anche l'assistenza e l'officina meccanica in sede e parliamo anche di usato, qui da S-Auto ha anche l'usato d'eccellenza, ma prima di passare all'usato parlerei anche di microvetture, novità assoluta, microvetture di casa Aixam. Certo, abbiamo da poco tempo installato un rapporto con questa casa madre, abbiamo disponibilità di microvetture in pronta consegna, sia nella motorizzazione turbodiesel che quelle ecologiche. Bene, come dicevamo dedichiamo il resto della puntata all'usato multimarca firmato S-Auto, state con noi. Suzuki Vitara 1.6 possibilità in pronta gas a 2.500 euro, Grande Punto 1.9 allestimento Sport a 4.500 euro, Bellissima Audi A3 2.000 turbodiesel a 5.200 euro, Opel Astra Cabrio del 2007 a 8.900 euro, Mini Cooper 1.5 diesel allestimento One a 5.200 euro. Fiat Panda col tetto panoramico e climatizzatore a 3.500 euro, Toyota Yaris 1.3 benzina del 2007 a 5.900 euro, Bellissimo Casca in pronta consegna modello a 100 a partire da 25.200 euro, Bellissima 500L motorizzazione 1.3 turbodiesel da 14.900 euro, Stupendo, Jaguar XJ8 del 2003 con soli 180.000 chilometri a 10.900 euro. Molto bene amici, chiudiamo la scaletta di oggi sulla novità S-Auto, anche micro vetture di casa Aixam. Qui al nostro fianco ne abbiamo una nuova coupé adatta alla stagione in corso, ma anche vetture usate. Assolutamente sì, Palma. Abbiamo questa vettura in pronta consegna a 10.400 euro con climatizzatore, se no abbiamo due disponibilità di due autovetture usate. Venite a trovarci che vi accoglieremo con piacere. Bene amici, come sempre pochi esempi per rappresentare la grande concessionaria storica Opel S-Auto. Naturalmente c'è molto di più da scoprire, ma in chiusura vogliamo parlare anche di servizi. Certo, assolutamente sì, Palma. Abbiamo il servizio assistenza, quindi vi ricordo, in Corso Torino 87 a Bottigliera Alta, Ferriera. Per quanto riguarda abbiamo auto di cortesia, massima disponibilità, tagli anni immediati e tutto quello che riguarda la garanzia. Venite a trovarci. Bene, la cortesia e la professionalità sono le carte vincenti di S-Auto. Ricordiamo ancora l'indirizzo della sede storica. Corso Moncenisio, 75 Rosta o Corso Francia, 175 Rivoli. Vi aspetto. Bene, io ringrazio Michele per l'ospitalità, ringrazio voi per averci seguito e come sempre lì nella regia.